Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Wow. Ehi. Bellissima. Ehi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, chi sei Donna Gatto? Mi chiamo Bim Bim. Bim Bim. Bim Bim. Yes. Wow, Bim Bim. Faccio cantante lirica. Ho vinto un premio di top ten piano soprano in Cina. Mi sono esibita in diversi teatri sia Europa sia Asia. Cosa fai in Italia? Io studiavo opera, polirica. Fantastico. Dove? Dove? Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Sei grande. Come mai dal conservatorio poi sei arrivata al canto pop? Vorrei esprimere più in tanti modi, quindi... È anche un po' la mia intenzione quest'anno di affrontare un po' questa... Sai che Morgan non ti ho mai visto così interessato? Cioè adesso, voglio dire, è innegabile il fatto che io abbia amore per la musica. Sì. È un grande amore. È un genio. Soprattutto per la musica classica. Mi interessa proprio il concetto di mettere un ponte tra l'antichità e la modernità. Esatto. Vediamo se lei lo sa fare. E mettiamo sto ponte. Vediamo. Cosa ci canti? Io ho portato Beyoncé Listen. Bella. Che è uno dei miei dischi preferiti. Prego. È vero! Oh! Listen. Bravissimo. To the sound here in my heart. The melody I start but can't complete. Non la guardo neanche, guardi. Beh, sì. Oh! The time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All cause you won't. Listen. Listen. I am alone in the growth zone. I'm not holding my own home. And you try and try to say what's on my mind. You should hop now. Cause the sound here in my heart. The melody I start but I will complete. Oh! Oh! Quindi questo ponte, Morgan. Levatoio. Io l'ho sentito un po' stonato, sbaglio. Aspetta. Aspetta. No. Ma Bingbing, io devo dirti che questa performance che tu hai fatto era veramente orribile. Tu hai cantato come un gatto stretto all'uscio. Scusa, non ho capito cosa vuol dire questo ponte. E' meglio che non hai capito, guardo. Possiamo sentire un piccolo pezzo a cappella. Un'area classica, per favore. Qualcosa che ti vuoi. Trovo, trovo il sopro del mettere. Tempo mio giocondo. Tu puoi con me, con me nel mondo. Ciò che non è il piacere. Grazie mille, Bingbing. Grazie. Per me sì. Per me sì. Grazie. Hai messo d'accordo me e Morgan, guarda. Guarda, sei un ponte. Tu sei proprio un ponte. Sei il ponte tra me e Morgan. E viceversa. Per favore, mi dai possibilità di mostrare l'altra capacità. Aspetta, voglio capire quanto mi pregano Fedez e Morgan. Dagli la possibilità di mostrare, per favore. Dagli la possibilità. Supplicate ancora un po'. Dagli la sua possibilità. Sì, grazie. Allora ti accompagniamo io e Fedez fuori. Grazie. Non ho dato il mio giudizio. Fedez, secondo me backstage la tua fidanzata ti spacca la faccia. Ho detto no. Bingbing, ho detto no. Ho detto no, ragazzi. Ho detto no.